Sviluppato da Double Elix per conto di Capcom, Strider è una sorta di reboot del celebre videogame uscito nel 1989. Il gioco vuole riproporre quegli stessi ritmi indiavolati che hanno caratterizzato il titolo originale, ma al contempo cerca anche di ammodernarne la struttura complessiva, abbracciando una filosofia molto più attenta all'esplorazione e al backtracking. Nesce un titolo ibrido e particolare, solido e longevo come non se ne vedevano da tempo. Strider si presenta come un action game bidimensionale, martellante e compulsivo. I movimenti del protagonista sono rapidissimi, salti, scivolate e fendenti si inseguono in quella che sembra una flessuosa danza di morte. Il giocatore deve imparare a lanciarsi contro gli avversari con convinzione incrollabile, per affettarli con una serie di colpi ritmati e precisi. L'azione insomma si configura fin da subito come un calcolo millimetrico di distanze ed input. L'esaltazione per l'incedere così spericolato è già tanta, ma gli entusiasmi crescono notevolmente quando il gioco esibisce la sua struttura da metroidvania. In pratica, esplorando le vastissime ambientazioni di gioco, il nostro Strider recupera nuove abilità, gadget e potenziamenti, che gli permettono via via di accedere ad aree precedentemente irraggiungibili, oltre a renderlo un ninja sempre più spietato e letale. Il successo di un'impostazione del genere passa ovviamente dalla qualità del level design e del backtracking, ed il lavoro di Double Elix su questi aspetti è veramente incredibile. La progressione è salda dall'inizio alla fine, ben tenuta, e ci porta gradualmente a scoprire un set di abilità incredibilmente eterogeneo. Il numero di potenziamenti ed upgrade, fra kunai da lanciare, doppi salti e nuove tipologie di lame dalle caratteristiche più disparate, è veramente impressionante, e Strider sembra un titolo letteralmente inesauribile. Il senso di sviluppo e crescita del personaggio è sempre accompagnato dalla curiosità di scoprire cosa c'è dopo, nell'arco di un'avventura che dura quasi una decina di ore, superando di molte lunghezze tanti congeneri e titoli di venduti a prezzo pieno. Uno degli aspetti più riusciti del gioco è che tutti questi upgrade non si interfacciano solo con la conformazione degli stage. Ogni potenziamento modifica anche le abilità di combattimento del nostro ninja, che diventa gradualmente più letale. Avversari sempre più coriacei arrivano ad infastidire il nostro protagonista, e per far fronte alla loro potenza di fuoco bisogna dimostrarsi precisi, rapidi e tecnici. Anche il combat system quindi si evolve, rappresentando di fatto una delle eccellenze del prodotto, che con estrema competenza alterna i preponderanti momenti action con qualche fase platform ben tenuta. Le eccezionali doti di Strider emergono anche nel corso delle boss fight, tutte diversissime e ben strutturate, non sempre complesse per i più tecnici, ma rapidissime e stimolanti. Buona anche la diversità degli ambienti che andremo ad esplorare. Il mondo di gioco riserva numerosissime sorprese. Uno degli elementi che risalta è proprio la cura nella costruzione dell'ambientazione, che rappresenta di fatto uno di quei pasticci cibernetici che andavano tanto di moda sul finire degli anni 80. Fra regimi oppressivi e avversari che sembrano usciti dal Giappone feudale, il tutto si tiene in piedi in maniera eccezionalmente dignitosa, rappresentando un sincero omaggio alla cultura nerd di vent'anni fa. Molto piacevole infine anche il look generale della produzione, un colpo d'occhio pieno di effetti speciali, esplosioni, elementi in movimento. La fluidità dell'azione non è mai compromessa, almeno su piattaforma next gen, e gli scenari risultano decisamente evocativi. Mentre Strider si muove in primo piano, moltissimi elementi animano gli sfondi, e la telecamera dinamica, che ora si avvicina al protagonista ed ora torna ad inquadrare una più ampia porzione della base, esalta la furia di Here You, mentre fa brandelli oggetti e nemici in un tripudio di detriti e fumo. Strider è una di quelle sorprese che non ti aspetti. Ispirato all'ottimo shadow complex nella struttura di gioco, il titolo firmato Capcom e Double Elix ci propone un avanzamento sempre ben tenuto e ponderatissimo, ma soprattutto stimolante. Esplorazione e backtracking non mettono mai in secondo piano una prepotente componente action, dai ritmi accesi e sempre molto tecnica. Esaltante, rapido, velocissimo e divertente, il nuovo Strider è un titolo denso e ricco, seriamente consigliato a chiunque.